ehi stanno per costruire qualcosa di nuovo in città vediamo cos'è non è un edificio è meglio è la carrozza delle regine magiche dei pinnipon vediamo come fanno mamma mia è gigante ha un sacco di cose con le regine magiche cominciamo prendiamo le buste ci sono tante cose carine guardate funziona il baule davanti che carina la ringhiera rosa abbinata al sedile questo pezzo qui quest'altro dall'altro lato un lato voilà il trono con le bandiere per decidere chi è la regina del ballo questo è un letto il tavolo per il banchetto una cassa panca è tutte queste cose insieme guardate il baule del tesoro ci sarà utile un altro cassetto guardate il tetto è molto speciale si trasforma nel mangiatoio per l'unicorno alato che traina la carrozza non è bellissimo mettiamo la decorazione un salone da ballo con le casse e adesso attenti perché questo diamante brilla la miglior luce per le regine delle lanterne abbinate più diamanti sono regine delle bandiere e queste redini sono per il nostro amico un unicorno con le ali super grandi super amico delle regine magiche e spero anche mio che dolce più sorprese questi cubi per ballare sono molto speciali e vanno qui adesso mettiamo gli adesivi magicamente abracadabra è stupendo tutti gli accessori per le figure vanno qua nel baule ha anche uno specchio e attenti a questo se apriamo questo lato lo prendiamo abbassiamo le schede abbiamo una sala da ballo il diamante si illumina mettiamo i mobili prepariamo il trono manca la regina come è bella ha molti accessori e la sua gonna cambia ma inoltre possiamo metterle il diamante guardate come brilla ah il cubo da ballo lo carichiamo vediamo che succede vediamo un po no ci vado io i cubi si muovono ragazzi rimango qui a ballare ci vediamo nel prossimo video wooo uuuu 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 uuuu